La vita delle tartale è stato realizzato nell'11 per il concorso cinematografico organizzato in occasione dell'esposizione ed è stato premiato col primo premio per la categoria scientifica, produzione Ambrosio, realizzato da uno dei più grandi operatori dell'epoca del muto che è Roberto Megna, cugino di Guido Gozzano, un poeta, ad accompagnare la vita delle tartale, Caprizio Bergini. Buona visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.